il canile qui dietro va prendine uno il primo cucciolo non si scorda mai ci sono degli animali qui sai che l'hai trovato il tuo migliore amico ciao i nostri cuccioli si possono adottare tranne quello che cos'è si è buono lei ha trovato un alieno di nome stitch e il paradiso non sarà più lo stesso ehi sei sicura che c'è un cane che ho la parola dobbiamo riportarlo al canile e quando finirà la nostra ohana ohana significa famiglia famiglia significa che nessuno può essere lasciato solo e per questo devi assolutamente riportarlo qui come? gli alieni stanno partendo la mia casa all disney classici presenta una storia di fedeltà non mi lasciare ok di amicizia tornate ma solo può essere lasciato solo di famiglia la nostra famiglia è piccola ma se vuoi puoi farne parte e ti divertimento è il mio cucciolo ciao lillo e stitch lillo e stitch